Carminia Savoia, Rome, Italy. L'activazione del sistema angiotensico è uno dei principi contributori per la patologia cardiovasculare. In particolare, l'angiotensico 2, che è il principale effettore della RAS, può attivare diversi strumenti intracellulari e, in particolare, può induzire l'increzzata produzione delle specie di oxigeno reattive. In particolare, l'increzzata produzione di RAS è conosciuto come l'oxidativo, che è avanzato dall'activazione del sistema angiotensico, come ho detto prima. L'increzzata di RAS, riconosciamo nei sistemi cardiovasculari 4 isoformi di NADPH, che sono responsabili della patologia cardiovasculare. Queste sono i nox 1 isoformi, nox 2, nox 4 e nox 5. Queste sono diversamente regolati e sono attivati dall'activazione del sistema angiotensico, anche con l'angiotensico 2 o l'aldosterone. Interessantemente, il nox 4 è anche coinvolto in un meccanismo che induce principalmente la produzione di H2O2, che in alcune condizioni è relato alla vasodilation e, per esempio, alla protezione cardiovasculare. recenti evidenzi hanno mostrato che questa isoforma è anche presente e attiva nel sistema cardiovasculare umano, induzendo eventualmente effetti protettivi. effetti. Molto clinici, come preclinici e esperimentali, hanno mostrato che RAS, sono un modulatore centrale fondamentale che inducono la patologia cardiovasculare, con l'attivazione dell'attivazione della kinase di MAP e dei canali di calcium, che possono essere responsabili per la remodellazione vasculare, induzione da alcuni effetti, come l'angiotensico 2. in questo modo. In questo modo, targetare specificamente il sistema RAS e anche i futuri terapisti, eventualmente, un strato intracelulari specifico, potrebbe essere un'attività promessa per la protezione cardiovasculare. Grazie per la visione!